Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio secondo video Oggi farò vedere tutti i miei personaggi di wrestling Allora, sono il 4 Io i nomi li ho inventati Questo qua però è senza un braccio E qui ha solo questa specie di mezzo muscolo Questo non gli ho dato il nome Ah si, Mr. Teschio Che c'è qua dietro il teschio E fa sta cosa Ok Poi abbiamo questo Questo è Mr. Mutanda Allora, guardate Allora, lui è intero almeno E fa così Ok Poi abbiamo Questo come si chiama? Ah, già, Mr. Muscolo Tutti i mister qua Allora, questo qua almeno non fa nessun movimento con le gambe Che almeno questo qui È bellissimo E poi abbiamo A Brutox E c'è come è bello Guardate c'è la faccia La faccia di uno cattivo Poi c'è proprio Vedete qui c'è Poi c'è il braccialetto Questo qua Questo qua Poi questo braccialetto argentato Poi anche questo qui Mette a fuoco Ok, non metto a fuoco Grazie Allora ragazzi Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale E attivate la campanella Comentate E noi ci vediamo in un nuovo video Ciao Ciao